Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 53esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo questa puntata parlando di Ubuntu. Ad inizio del mese di gennaio il design team di Ubuntu si era riunito in quel di Londra per decidere dello sviluppo del nuovo tema Yahoo che vedremo su Ubuntu 20.04 LTS. Il team che si occupa del sviluppo del tema Yahoo ha deciso di apportare alcune modifiche al tema Yahoo in modo tale da renderlo più coerente, graficamente più curato, ridurre l'abbondanza di code utilizzati per il tema quindi attualmente c'erano i verde per i selettori, i pulsanti di controllo di un altro colore e quant'altro. Il team di Ubuntu ha deciso di utilizzare un unico colore in questo caso per tutti quanti i selettori, i pulsanti e quant'altro passando al tipico melanzana di Ubuntu. ha deciso poi di apportare alcune migliorie per quanto riguarda il tema Yahoo flat pack migliorie poi per quanto riguarda anche il tema di icone si è deciso ad esempio di modificare il colore delle cartelle del tema Yahoo passandole dall'arancio ad un grigio che rimanda al tema Yahoo infine si è deciso di introdurre tre varianti del tema Yahoo Yahoo standard, Yahoo dark e Yahoo light tutte queste modifiche sono approdate all'interno dei ripositori di Ubuntu 20.04 LTS lo scorso 7 febbraio se state provando la versione in stiluppo vi basterà aggiornare il sistema e poter apprezzare il nuovo tema Yahoo e il nuovo set di icone attualmente non è stata ancora implementata quella modifica di cui vi parlavo per introdurre all'interno delle impostazioni di sistema la possibilità di cambiare al volo il tema ma dovremo affidarci sempre a Gnome Twix che dire, io lo sto provando mi piace, mi piace questa nuova combinazione di colori mi piace questo melanzana, non lo so perché mi piace soprattutto il colore nuovo che è stato dato alle cartelle lo trovo più moderno e ben si sposa con tutte e tre le edizioni del tema Yahoo quindi bella vuola per me hanno fatto davvero un bella vuola restando sempre in casa Ubuntu questa settimana è stata rilasciata la quarta point release di Ubuntu 18.04 LTS sia per l'edizione principale che ovviamente per i flavors ufficiali questo aggiornamento fornisce il nuovo stack hardware backportato da Ubuntu 19.10 questo significa il nuovo kernel Linux 5.3 miglior supporto hardware aggiornamenti per X.org e i driver grafici open source oltre che la possibilità di avere delle riso aggiornate con al suo interno tutti quanti gli aggiornamenti fino ad ora rilasciati quindi se vi trovate a dover reinstallare Ubuntu o installarlo su una nuova macchina scaricando questa riso aggiornata non dovrete stare lì nel posto di installazione a fare gli aggiornamenti di sistema perché avrete già tutti quanti gli aggiornamenti del caso se avete già installato una precedente release di Ubuntu 18.04 LTS o successive point release e volete aggiornare lo stack hardware su macrosbox trovate il comando da dare da terminale per aggiornare il tutto passiamo adesso a KDE e alla sua incontrollabile voglia di colonizzare il mondo Windows dopo Kate e Ocular un altro software della famiglia KDE è approdato su Windows Store di Microsoft il software in questione è Elisa che è un famosissimo oramai lettore musicale caratterizzato da semplicità e facilità di utilizzo che è sviluppato dalla community di KDE ed è anche il mio player audio predefinito preferito su KDE adesso se siete su Windows 10 dallo store di Microsoft sarà possibile installarlo quindi godere le funzionalità di questo software anche su Windows il prossimo obiettivo degli sviluppatori di Elisa è quello di aggiungere il supporto alle API di Windows per avere una ricerca dei file musicali all'interno di Windows più rapida così come accade già adesso su KDE Plasma grazie a Baloo che dire KDE ama Windows così come Microsoft ama Linux o forse di più altra grande novità altro grande rilascio di questa settimana è la versione 2.5.0 di OpenShot che arriva dopo quasi un anno di sviluppo che cos'è OpenShot? è un video editor open source multiplattaforma ed è anche il video editor che io attualmente utilizzo per fare le mie conversioni del podcast in video ma anche per alcuni altri progettini perché lo trovo molto semplice da utilizzare e stranamente è anche molto più veloce di KDE Live nella conversione le novità principali di OpenShot 2.5.0 sono il supporto per la codifica e decodifica hardware che consente in presenza di schede video compatibili di avere l'accelerazione hardware che comporta dei miglioramenti nell'aumento delle prestazioni dal 30 al 40% quindi aumenti di prestazioni molto importanti miglioramenti delle prestazioni nei fotogrammi chiave l'esportazione e l'importazione di EDL, XML quindi Premiere e Final Cut Pro la generazione delle miniature che è stata migliorata il supporto a Blender 2.8 quindi al nuovo formato .blend della maggior parte dei titoli animati che adesso sono stati corretti e riscritti da zero la funzionalità di ripristino che praticamente viene fatta una copia dell'intero progetto su cui noi stiamo lavorando in un'apposita cartella per poter essere ripristinati in caso di problemi di disgrazio o quant'altro miglioramenti poi relativi al supporto svg su marcosbox trovate maggiori informazioni con il changelog comprito qualora vi interessa passiamo adesso a due rilasci che riguardano due desktop environment il primo riguarda il rilascio di KDE Plasma 5.18 LTS la nuova release con supporto lungo termine di KDE Plasma che va a sostituire la vecchia 5.12 Plasma 5.18 trova un'interfaccia utente più pulita notifiche più chiare impostazioni più snelle un migliore aspetto generale miglioramenti dell'integrazione anche con le applicazioni GTK e le emoticon all'interno del terminale perché piacciono non lo so perché piacciono comunque sono state aggiunte lo stato RTS vi ricordo significa che Plasma 5.18 verrà aggiornato e mantenuto dai collaboratori di KDE per i prossimi due anni mentre le versioni quelle diciamo standard vengono mantenute per quattro mesi per una panoramica completa vi invito a leggere il blog dove trovate il change log completo ma trovate anche un interessante video che è stato pubblicato dalla community di KDE dove vi vengono mostrate le principali novità naturalmente KDE Neon è già pronta l'update a KDE Plasma 5.18 è già arrivato nei repository e sono già state aggiornate realiso live per chi deve fare una nuova installazione l'altro desktop environment che si è aggiornato è Mate o Mate come si dovrebbe chiamare in realtà io lo chiamo sempre Mate per la forza delle abitudini comunque si dice Mate dopo un anno di sviluppo è stata rilasciata la versione 1.24 del questo desktop environment nato dalle ceneri di Gnome 2 che tanto piace piace i vecchi come me che cercano ancora quel Gnome 2 quello bello con i pannelli fatti fatti come si dice che si potevano personalizzare un aspetto coerente con applicazioni snelle reattive e quant'altro cosa che con altri desktop environment moderni non c'è più va bene passiamo avanti del momento nostalgia quali sono le principali novità? beh Mate 1.24 aggiorna praticamente la maggior parte dei componenti del desktop environment quindi aggiorna in grampa con supporto ad alcuni formati extra aggiorna anche il visualizzatore di immagini EIE offmate con il supporto a Wayland con il supporto iFile WebP aggiorna Marco che è il Windows manager di Mate con decorazioni di finestre nuove bordi di rimezzolamento invisibili miglior supporto all'HDPI miglioramenti poi sono stati fatti per calculator per mouse per indicator applet per Mate Panel che appunto anche in questo caso ha migliorato il supporto a Wayland supporto per l'HDPI miglioramenti in in Mozo che è l'editor di menu miglioramenti in pluma che adesso può mostrare i segni di formattazione insomma miglioramenti in tutte le componenti di Mate su Marcosbox trovate il change log completo e andatevi a vedere questo aggiornamento arriverà quanto prima si spera sulle principali distribuzioni che fanno utilizzo di Mate o Mate infine ma non per importanza passiamo al mondo Firefox con due notizie una che riguarda il lato desktop di Firefox lato il lato mobile iniziamo da Firefox 73 che è stato rilasciato questa settimana che è la nuova versione della edizione desktop di Firefox le novità di questo rilascio sono riguardo principalmente degli strumenti di accessibilità che sono stati migliorati la prima riguarda lo zoom globale per le pagine web Firefox già da diverso tempo offre una funzionalità di zoom delle pagine web tenendo premuto control leggendo con la rotellina del mouse è possibile aumentare e diminuire lo zoom delle pagine web questa però è un'opzione che si deve fare praticamente ad ogni pagina web e può essere scomodo per chi invece vuole impostare uno zoom fisso per tutte le pagine web quindi dover stare ogni volta a rifare l'opzione bene Firefox sono venuti in conto a questa categoria di utenti e hanno deciso di introdurre all'interno delle impostazioni una opzione per impostare un livello di zoom predefinito al 120% 130% globale in modo tale che tutte le pagine web si aprano con quel livello di zoom è anche possibile spuntare l'opzione per ingrandire soltanto il testo ovviamente è ancora possibile impostare uno zoom manuale per le singole pagine web così come eravamo abituati a fare in passato però per chi ha problemi di vista è uno sbattimento in meno quindi si imposta il livello di zoom globale e se lo ritrova per tutte le pagine l'altra miglioria riguarda il contrasto elevato migliorato molti utenti con problemi della vista si affidano alla modalità contrasto elevato di Windows per rendere i siti web più leggibili nelle versioni precedenti al Firefox 73 Firefox andava a disattivare le immagini di sfondo quando era abilitata la modalità a contrasto elevato con Firefox 73 viene introdotta una soluzione di backplate di leggibilità con una funzione che va a posizionare un blocco di colore di sfondo tra il testo e l'immagine di sfondo in modo tale da migliorare la modalità a contrasto elevato e quindi da rendere tutto più leggibile senza dover disattivare le immagini di sfondo non mancano poi in Firefox 73 consulete correzioni di sicurezza migliorie che riguardano la qualità audio durante la riproduzione dell'audio ad una velocità maggiore o minore migliorie per quanto riguarda il salvataggio degli accessi e migliorie per quanto riguarda WebRender che adesso viene distribuito su laptop con schede video Nvidia con driver più recenti della versione 432 e dimensioni dello schermo inferiore a 1920x12 se siete su Windows Mac e Linux provvedete ad aggiornare quindi su Linux arriverà sulle principali distribuzioni quanto prima il tempo di aggiornare sapete bene che su Linux c'è sempre qualche piccolo ritardo dovuto ai manutentori della distrutta mentre su Windows e Mac è già disponibile l'aggiornamento infine torniamo a parlare di Firefox per Android nelle scorse ore gli sviluppatori di Firefox hanno pubblicato una serie di domande e risposte riguardanti la migrazione del codice di Firefox preview all'interno della versione principale di Firefox per Android e del supporto alle estensioni della nuova versione in questa serie di domande e risposte è possibile avere maggiori dettagli sulla migrazione del codice di Firefox preview all'interno della versione stabile di Firefox per Android e ed è possibile avere alcune informazioni per quanto riguarda il supporto alle estensioni beh da qui leggendo un po' le domande e risposte arrivano una doccia fredda per gli utenti più smanettoni succede che il team di Mozilla Mozilla di Firefox ha deciso di dare priorità alle estensioni più comuni quelle che fanno parte del programma estensioni consigliate che sono quelle che è loco dire coprono i casi d'uso più comuni quindi sono anche quelle che sono ottimizzate per schemi di varia dimensione sono quelle più scaricate e quant'altro per questo motivo è possibile che non tutti i componenti aggiuntivi che noi andiamo a installare su Firefox per Android saranno supportati nel prossimo futuro sulla prossima versione di Firefox per Android quella basata su Firefox Preview c'è la volontà di estendere il supporto agli altri componenti aggiuntivi però non si sa quando e non si sa quali saranno le estensioni che verranno garantite non ci resta che aspettare le prossime settimane i prossimi mesi e vedere cosa arriverà spero che almeno introducano il supporto a qualche traduttore perché la funzionalità di introduzione è una delle cose che manca sia lato desktop che lato mobile che io personalmente diciamo così sopperivo con una estensione apposita speriamo che appunto venga aggiunto il supporto quanto prima a questa estensione bene con questo concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao